Siamo arrivati al Colle del Nivolè, siamo molto felici di questo traguardo, grazie al GAL e al Comune di Ceresole per aver organizzato, è stata una grandissima giornata di sport e di natura e di grandissima bellezza. Il prossimo anno lo rifacciamo? Speriamo di sì, io il prossimo anno ci sono, io mi prenoto già.